Ciao ragazzi, eh ma voi la riunisce, questo te lo dico comunque, non puoi riunire una cosa che è stata rimossa prima, eh allora non la rimette, vabbè, muovediamo, che vuol dire non la rimette? Se non passa un minuto e mezzo non crea un video, ah dici rimane comunque cancellata, vabbè però stai registrando nuovamente? Sì sì, siamo riregistrato, solo se ho tre clip, mi puoi da riunire un po' un casino, muovediamo, no perché sono due clip, eh no perché ho dovuto stoppapurare la registrazione, vabbè tutto, vabbè poi se l'avete Allora il fatto è questo, il fatto è che siamo arrivati ad un punto in cui, faccio un piccolo asunto per chi avesse visto solo questo pezzo, siamo arrivati al punto in cui non si può neanche parlare di un servizio andato in onda sulla tv nazionale Eh perché c'è la possibilità di ricevere dei messaggi su whatsapp senza firma intimidatori Eh per quale motivazione? Per aver detto cosa? Visto che le uniche considerazioni personali sono state quelle fatte in testa a questa live relativa al nostro lavoro Nostro lavoro, in contestazione alla storia di Bugalalla, fasulla, dove affermava cose fasulle sul nostro operato Quindi cosa ha a che vedere con la faccenda M-Team? Nulla direttamente ha a che fare con delle cose che sono anche pubbliche e c'è già quella parte interessata su YouTube Quindi? Di cosa andrebbe contestato? Fatemi capire Io questo lo dico anche per rimarcare il discorso che abbiamo fatto con Germano in relazione alla vicenda Saba Non fatevi intimidire dalle liti temerarie Basta con questo giochetto dell'avvocato che era addirittura messaggio su whatsapp da un numero estero alle 23 Senza firma Non fatevi intimidire da questa robetta Perché la giustizia italiana fortunatamente, almeno da questo punto di vista, le prende e le archivia Fanno perdere solo tempo, noi tanto l'avvocato non lo paghiamo, quindi fate O se lo paghiamo, va bene, lo pagheremo E se non lo paghiamo? Lo pagheremo Meglio, più soldi da investire nei prossimi boscher Ok Vai Gianlu No, perché prima è stato detto un chat Non è facile riprendere il filo, voglio fare solamente un'istoria per poi andare in un altro punto Ok, scusami perché me l'ho scordato che hai stato interrotto prima Vabbè, fatto sta che ho visto in chat qualcuno dice Eh, voi avete mostrato l'apertura ad un contraddittorio anche a Buga e chiunque Anche Zeppellini stesso in caso volessero intervenire Però avete cancellato il VOD Davide vi spiegherà adesso la motivazione del fatto della non presenza del VOD Forse la intuite tranquillamente, visto l'entità di quello che abbiamo visto adesso La parte in cui ci stanno le riflessioni esterne appunto al servizio delle Iene Al visionare del servizio delle Iene saranno presenti su YouTube O sbaglio? Allora Certo, certo Poi ricordiamo che noi abbiamo due copyright su tre Quindi anche per non rischiare il ban Esatto Su Twitch Leviamo queste cose per prima avere l'autorizzazione della Mediaset Ma solo per un decaricamento che è destinato su YouTube Qua per ragioni preventive Leviamo il VOD E aggiungo un dettaglio fondamentale Abbiamo comunque registrato la parte di reaction al servizio delle Iene E lo abbiamo Integrale Non l'abbiamo registrato a caso, no? L'abbiamo registrato perché Qualsiasi affermazione fatta Potrà essere contestata da ciò che è stato detto Quindi non abbiamo nessun timore Chi ha visto la live delle 15 Lo sa Però noi abbiamo anche quello Quindi non è un problema di pubblicazione L'unica parte che non c'è è quella appunto Che non c'è al momento Che non è al momento pubblica Né su Twitch né su YouTube È quella che riguarda Ieri aveva un discorso di copyright Ma quella parte la abbiamo noi Ovviamente Quindi non è un problema È un non problema Poi a me oggi è successa pure una cosa particolarmente curiosa Quindi sono un po' scosso, no? Perché avete visto che io ho tre numeri Uno dei tre Che è anche quello mio di lavoro Quindi può essere stato chiunque Mi sono arrivati strani messaggi Strane cose Quelle che ho mandato pure a voi Pensate lo mandate pure a palle Che è presente qui Che sa tutto Quindi non voglio entrare Né nello specifico E quindi è stata pure una giornata un po' particolare Perché poi è pure il mio numero di lavoro Quindi Ma tra l'altro io E' una volta che a me succede Perché M'era successo solo in altre occasioni Però su Su dei numeri diversi Sai qual è il problema? Per chiarire anche per I più duri di Comprendonio La reaction al servizio Rientra nella dottrina del Fair Use Batman Che ancora qui nonostante ci abbia salutato A plurale Diverso tempo fa Oggi dicevo una cosa sbagliata Che DMCA Digital Millennium Act Bla 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 Copyright Act Esclude il Fair Use Quando è una cazzata madornale Perché chiunque sappia Che cos'è la dottrina del Fair Use E non dico di riascoltare una delle mie volte In cui l'ho detto io Però L'avvocato Catania L'ha spiegato In maniera molto esaustiva Quando parlava del tentativo Di buttargli giù i video Ecco E' una dottrina Che Rientra proprio nell'ambito Americano Del copyright Sorpresa sorpresa Twitch è una piattaforma Che si basa Per il copyright Sulla legge americana E Il Fair Use E' Quando Per Alcune Eccezioni Tu puoi usare Del materiale Coperto da copyright Legalmente Ad esempio Se guardi Una foto Di un articolo Di un giornale Quella foto Non è tua E' o del giornale O di chi l'ha scattata Però Se mentre commenti Un articolo Di un giornale Guardi quella foto Ed è Utile A commentare La notizia Esprimere la tua opinione A correggere O a criticarla Già quello Basta per il Fair Use Poi ovviamente Sarà difficile dimostrare Che se io mi metto A trasmettere Un film della Disney Nella sua integrità Perché anche il tempo Che usi E' importante Lì Sarà molto difficile Dimostrare Che lo sto facendo Per Fair Use Ok Ripeto Siccome c'è Batman Che anche Su queste cose Ne sa tanto E oggi scrive tanto Ma nemmo parlare spesso De Fair Use Ma si Ma se puoi entrare Su Discord No Te prego Non fa sta cazzata Non bannarlo Te lo chiedo io Non lo bannate ragazzi Mai 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 Ancora Edge che ha scritto Ma Sapendo lì D'entrare La persona Che ci sta dietro Davide Penso sia un meme Questa cosa qui Non puoi concedere Il numero che ti ha mandato Il messaggio Quello è il numero estero Prova a googlarlo un attimo Senza dirlo ovviamente Un memino Vedi se è presente Lo sto già facendo Lo sto già facendo fare Ma scusa Batman Ma scusa Batman Sarà da qualche anno Devo riunire tutte le live È un po' un casino Quindi Non so se Kitano Scappa quando Comunque Batman Sei ancora qui Hai tanto da dire Entra E diccelo Cioè Sembra quasi Puoi anche mettere un filtro Per mascherare la tua voce Se Quello è il problema A me sembra che sia Quello il problema Perché Di cose da dire Ne hai tantissime Esatto Scusate ragazzi Fate finire un attimo Il discorso a Dave E aggiungo solo un dettaglio A quello che dicevi In relazione Alla tempistica Degli elementi Visionati da noi In live Bugalal ha affermato Ieri in live Che devono ancora uscire I suoi speciali Eh già In risposta E Nella live delle 15 Io ho detto Vedremo anche quegli speciali A patto che ce lo Permetta Prego Dave No no Era tutto qua Senza Cioè Semplicemente Affermavo questo Che Che si è dato per scontato Che noi non avessimo Intenzione di vedere Questa cosa Ma semplicemente N'è stata fatta Una visione Eh Ordinata in maniera cronologica Rispetto a come sono uscite le cose Prima è uscito il servizio Quindi loro daranno una risposta Penso Ribattendo punto su punto Eh Alle cose Dette e illustrate nel servizio Quindi Quando questa risposta uscirà Verrà visionata anche quella Ma poi Come è stato detto anche oggi Nel momento in cui Chiunque I soggetti interessati Voglia fornire In questa sede La propria versione dei fatti Perché no Cioè Stavo detto oggi Svariate volte E viene ribadito Ho avuto la conferma Del numero Ok Che so di chi è il numero Mannaggia Perfetto Ah sì Vabbè Ottimo ragazzi Sì 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 Chiudiamo con questa bella notizia E' importante Altre persone È stato un problema E tantissimo Visto che è tantissimo Però ve l'ho detto Però ve l'ho detto più o meno Tra le righe Nel senso che È un riferimento A presunti procedimenti In bocca al lupo Non è il modo Per notificare qualcosa Dovreste saperlo E parlo al plurale Mandate una PEC Dato che è pubblica O attendete che La giustizia Venga a notificarci il tutto Basta con queste pagliacciate Con queste pantomime Va bene? Siamo in un paese civile E basiamoci sulle regole Della civiltà Non che mandate messaggini Alle 11 di sera Sui numeri privati Senza firmarvi Annunciando Non si sa cosa Fate quello che volete E poi Chi di dovere Valuterà Ciò che è stato detto Ciò che è stato eventualmente fatto E questo Deve essere molto chiaro Non è il modo di procedere E ripeto Dovreste saperlo Che queste cose Vanno anche contro I vostri interessi In termini di procedure Non è la procedura Corretta Fate la finita Di utilizzare questo metodo Intimidatorio Come è successo Anche con i video Dell'avvocato Catania Fate la finita Se dovete Querelare qualcuno Per diffamazione Lo fate Ci sono le sedi opportune Davide poi Ti volevo dire Nella Adesso ne ha fatti specie Visto Sempre riferendomi A quel contenuto Del messaggio Uno dice Sai C'è La non volontà Di vedere anche Quanto di grado Dalla controparte Ovviamente poi Semmai tu Procedi a Magari Via privata A chiedere autorizzazione A buga stessa Di visionare Il video Che lei pubblicherà Su youtube Dove risponde Punto su punto Perché poi Se uno dice Se da una parte Viene detto Voi fate vedere Soltanto una campana Però poi magari Alla richiesta Di autorizzazione A poter reactare A quell'altro contenuto Dove c'è Insomma La dichiarazione Della controparte Viene detto No non lo puoi fa Lì non è volontaria Ma infatti è quello Che ho detto alle 15 Volontà nostra O vostra Di non farlo Quindi Io ho detto Che vorrei avere Un confronto Eccetera 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 Pure se non Mi interessa Su quale luogo Però rispetto Pure il fatto Che magari Una qualsiasi persona Vuole evitare D'avere Dell'auricolare Oppure Se sta a guardare Whatsapp Dove legge Punto su punto Uno può Accettare pure i video Perché accetta Quello che vuole fare L'altro Però partire Prevenuti E' sempre sbagliato Soprattutto perché Ripeto E' stato detto Anche alle 15 E in passato Ci è stato anche Chiesto Di intervenire Per difendere Una causa Non meglio Identificabile In quel periodo Storico Di difenderla Poiché Portato avanti Da una Amica No No Non funziona così Mi spiace Mi spiace Batman 45 US 45 US Per cosa sta? Cioè Batman Ma non è Ma non è quello Guarda 45 45 US Cioè nel senso US forse United States Ma il problema Sono persone Sono persone Che sono esperte Nell'intelligence Quando Per dire i dati Di quali canali Segue Da quando Quante donazioni Ha fatto Sono tutti lì Ma chi prendete Per il culo? Ma voi volete Veramente Andare a rubare A casa Dei ladri Che è un modo Di dire Ovviamente Ma 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 Tanto Tanto L'epilogo L'epilogo Mi sembra Assolutamente Calzante Con questa Storia L'epilogo Perfetto Ah Batman Io Tu il numero Di Whatsapp Mio Non ce l'hai Però Instagram È aperto Va bene Marra Non è che se fai un discorso Poi diventa vero Intanto Vabbè Non è che se fai un discorso Poi diventa vero Solo perché lo dici tu Buga ti ha chiesto Di lasciarle in pace E poi fate questo Allora Intanto A me Nessuno ha chiesto Eh Lasciatemi in pace Ma in pace da cosa? Anzi È stato chiesto Il nostro supporto Tempo fa Ma che cosa stai dicendo? Senza sapere prima Quale fosse la nostra idea Ma che cosa stai dicendo? E senza sapere Soprattutto Se eravamo informati Al riguardo Infatti Davide potrà confermare In ogni momento Che siamo stati citati all'epoca Ignorando completamente L'accaduto Quindi In realtà A testimonianza di questo E ci sono le prove Lei ci ha messo Nella lista Delle persone Che gli davano supporto Quando All'epoca Ancora non eravamo Al corrente Dei fatti Ne stiamo parlando oggi Io No ma io voglio capire Batman No ma io voglio capire Batman Manda dove prenda tutte queste informazioni Sono molto curioso Sinceramente Perché Io ho letto altro Pubblicamente Ho visto delle storie Di Bugalalla In cui Mi sembrava tutt'altro Che Afflitta Dalla nostra live Mi sembrava Coraggiosa Combattiva E soprattutto Ci ha definito Una trasmissione D'agonia Mediatica Quindi Non direi No Non è quello che è scritto Mi spiace Dillo a Bugalalla Allora Perché le storie Che abbiamo visto anche prima Non riportano ciò che hai scritto tu Ma neanche in privato Guarda Ma se il problema è la voce In privato Non c'è stato alcun tipo di contatto Ho provato a scrivere io prima In relazione a questa presunta denuncia Non ho avuto risposta Quindi non c'è stato contatto Nessun tipo di contatto in privato Ma penso tu lo sappia molto bene E pubblicamente Non c'è stato questo E anche fosse Non vedo cosa In che modo rientri nella nostra live Visto che Non lo so Vogliamo definirla Una live Configurabile come atto persecutorio Nei confronti di Bugalalla In quale galassia Di quale universo Forse a Gotham City Che tra l'altro è stata nominata All'interno di questa live Soltanto quando è apparsa a schermo Quindi nel merito Di quello che stavamo reactando Cioè il servizio delle Iene Ma se hai mostrato La sua storia a Instagram Appunto È quello che ti ho appena detto E cosa c'era scritto in quella storia Mio caro Bruce Wayne John Wayne Cosa c'era scritto? Ah no è Bruce Wayne Cosa c'era scritto? Considerazioni Che se permetti Voglio contestare Visto che si parla Della mia trasmissione Visto che è stato affermato Il falso Con un tag Un tag pubblico Un tag al cerbero E a me Quindi con la volontarietà Che arrivi dall'altra parte Che magari Tutti sanno Che quando fai una storia Con un tag Può essere ricondivisa Istantaneamente dal profilo Quindi C'è la volontarietà Di mostrarla Di farla mostrare Anche alla community Alla quale era indirizzata Se la posti dall'America Le regole sono forse No scusa Stavo dicendo una cazzata Però possiamo riflettere Su una cosa Allora Il signor Batman È evidentemente Interessato A comunicarci Le sue idee Ora Se il problema È la voce Il video Non lo devi attivare Se il problema È la voce Io sono sicuro In quella casa Avete tutti i mezzi Necessari Per applicare Una distorsione Ok Se il problema È la voce Ma pure colloquendo Guarda che uscirebbero Comunque fuori Dei studi Interessanti A lungo termine Quindi secondo me Pure colloquendo Se può essere Spiego cos'è L'oquendo È diciamo Quello là Che tu scrivi E poi c'è la voce Del treno Che parla per te Sarebbe comunque Molto interessante Però Fanno una riflessione Giusta però in chat Adesso Non poniamo troppa Attenzione a quello Che dice Batman Perché è un nickname In una chat E non diamo neanche Per scontato Che sia Qualche collaboratore Di Buga Che parli per loro Che sia un portavoce Deve essere un troll Suo di Zeppellini Perché sei una persona Che magari Seppurmente Sono un fan O uno che parla A Vanvera Per trollarci Noi stiamo attribuendo A loro Delle frasi Che non fanno parte Della loro volontà No c'è un problema Dave però C'è un problema Conosce il contenuto Dei messaggi Conosce il contenuto Dei messaggi Cioè io non lo so Ad esempio Se io dovessi Tirare e indovinare Non lo so Non so più come difendete Cioè ci ho provato In tutti i modi Comunque va bene Chiudiamo così Con questa bellissima frase Comunque Flame Non c'è da preoccuparsi Di un eventuale condanna Se non hai precedenti Aggiungiamo altre minacce Va bene Abbiamo Stiamo già facendo Gli accertamenti del caso In relazione In relazione All'account E alla persona Che sta dietro Questo account Quindi complimenti Hai chiuso In maniera Assolutamente decorosa Con questa minaccia Vergognosa Chiunque tu sia Ovviamente Caro Batman Noi ci vediamo Domani alle ore 15 Sia o siate Scusa Abbiamo universi Sia o siate Comunque io so Che Buga sta guardando Questa live Quindi spero Che ha sentito Le mie parole Ciao Fran Ti voglio bene Ciao John Non ti conosco Però Ora Imparo a conoscerti Ciao John Ciao Francesca Ti ho voluto Molto bene Ciao ciao Ci vediamo alle 15 Ciao ragazzi 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 No abbiamo detto male In effetti abbiamo detto male Ragazzi Ciao Ragazzi Sì Sì No perché Se mi avessimo detto Ragazzi Non vorrei mai Ciao ragazzi Non si può fare Che squali State arrivà Ello Crocian A presto